Amici da tutto il mondo, sì anche da Campobasso, bentornati nel mio canale, io sono la Francesca, oggi vi parlerò delle letture di marzo. Come al solito in descrizione ci sono tutti i libri di cui parlo in modo che possiate saltare al libro, direttamente al libro che vi interessa di più e sempre come al solito risponderò a tutte le domande che mi avete fatto su Instagram rispetto a questi libri perché infatti io una volta al mese prima di registrare questo video vi mostro tutte le letture in una storia, vi chiedo se avete delle domande su appunto qualcuna di queste letture e vi rispondo qui, quindi il mio Instagram è in descrizione così anche come TikTok, Goodreads e tutto il resto, quindi niente, cominciamo subito. Questo è stato veramente un mese incredible, incredible, perché abbiamo cominciato subito con un libro stupendo, ovvero Notte Americana di Marisha Pestle. Questo è un thriller, quindi non il tipico genere che affronto, però ne avevo sentito parlare talmente bene negli anni, aveva un concept talmente particolare che non ho saputo resistere e la mia curiosità è stata premiata perché l'ho adorato questo libro, sarà sicuramente uno dei preferiti dell'anno. È perché forse non sono molto esperta di thriller, quindi mi incanto con poco? Non è detto, non è detto. L'avrei detto per un libro tipo La Paziente Silenziosa che negli anni ho un po' rivalutato, però questo secondo me è veramente un libro bellissimo che potrebbe piacere anche a chi è esperto del genere thriller. Ma di cosa parla? Questo più che thriller è thriller psicologico. E seguiamo il nostro protagonista Scott che è un giornalista caduto in disgrazia dopo che aveva tentato di scovare la verità per quanto riguarda la figura misteriosa di questo regista, che è un regista di cui si conosce pochissimo, i cui film sono stranissimi, quasi horror, disturbanti, che hanno un, chiamiamolo fandom, comunque un gruppo di fan molto, molto appassionato, che proietta questi film in luoghi underground, quindi diciamo che non è mainstream questo regista affatto, però chi lo conosce, chi lo segue, è veramente appassionato. E appunto è famoso questo regista per i contenuti disturbanti dei suoi film e per il mistero che avvolge la figura appunto stessa del regista. Infatti si sa pochissimo di lui, non si sa neanche quasi che faccia abbia, dove abiti, ci sono tantissime leggende e cospirazioni attorno a questa figura. E appunto Scott decide di indagare su questo regista, ma qualcuno in contemporanea fa uscire invece delle informazioni scomode su Scott stesso. E queste informazioni fanno in modo che lui perda tutti i contratti che aveva con case editrici, giornali, eccetera, e quindi lui cade in disgrazia. Inizia il libro quando la figlia del regista, una figlia molto giovane di 24 anni, viene ritrovata morta per quello che sembra proprio un suicidio. A questo punto Scott, insieme a un gruppo, diciamo un gruppetto, un trio sono, quindi altre persone interessate alla questione decidono di riaprire questa investigazione, tra virgolette, e ripercorrere gli ultimi giorni di vita di questa ragazza e di conseguenza tentare di capire anche di più, di capirne di più su questo regista, sui suoi film, dove si nasconde se ha qualcosa a che fare con la morte della figlia, se era veramente un suicidio, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto io sorpresissima da quanto questo libro mi abbia fatto ridere. Non me l'aspettavo, soprattutto all'inizio, perché più si va avanti più diventa inquietante sicuramente, però soprattutto all'inizio è molto molto divertente, il protagonista è super sarcastico, ha questo umorismo molto arido, sarcastico, e le interazioni con gli altri due protagonisti sono state esilaranti. Veramente non mi aspettavo questo incontrarsi tra personalità diverse, infatti gli altri due personaggi che aiuteranno Scott nella sua ricerca sono molto interessanti, molto diversi da lui e creano questa dinamica, posso dire found family, posso dire found family, sì. Infatti io leggerei una serie intera di libri dove questi tre protagonisti risolvono misteri. Quindi se conoscete una serie thriller barra gialla che ha dei protagonisti principali, super interessanti, super carini, un bel rapporto, eccetera, ditemelo assolutamente perché ne ho bisogno. Perché il mio problema è che con i thriller io ho questo preconcetto che si concentrino più sul mistero e quindi sulla trama più che sui personaggi che magari sono un po' non bidimensionali, però nel senso uno non legge Poirot per Poirot, cioè Poirot rimane sempre lo stesso nel corso dei romanzi, no? Quello che cattura il lettore è il mistero e Poirot che è sempre quello più intelligente di tutti che risolve il mistero, eccetera. Invece qui veramente i protagonisti sono stupendi, fanno un percorso bellissimo, sono costruiti bene le loro interazioni. Il mistero è anche veramente coinvolgente, partendo dal fatto che non sembra neanche un mistero perché questo sembra proprio un suicidio, punto a capo. Ovviamente è un thriller psicologico perché è più incentrato sulla psiche del protagonista, come questo caso vada a cambiare il modo in cui il protagonista agisce e come vada anche a quasi farlo uscire di testa, ma anche il lettore stesso esce di testa perché più si va avanti nel libro più non si capisce cosa stia succedendo, se c'è anche dell'occulto in mezzo, se ci stiamo inventando tutto, se cos'è la realtà, cos'è la finzione, dove inizia il film, dove finisce la nostra realtà. Cioè è veramente, ti va a manipolare nel cervello proprio. In più la particolarità di questo libro è come sia ricco di inserti, per esempio di, adesso ho solo una mano, mi dispiace, per esempio di siti, articoli di giornale che rendono tutto ancora più realistico, cioè nel senso che la linea di demarcazione tra realtà e fizione si assottiglia sempre di più. Fino ad arrivare a un finale, veramente diventa sempre più macabro, sempre più spaventoso, quasi horror, devo dire, una sezione molto molto spaventosa. E il finale mi ha un pochino deluso, rispetto a tutto quello che era stato costruito in precedenza. Però da qui a dire che non mi è piaciuto, cioè ce ne vuole, quindi comunque consigliatissimo. Per quanto riguarda le vostre domande, mi avete chiesto, Notte Americana merita? È molto inquietante, barra grafica o che vibe ha? Allora, vibes, molto noir, devo dire, però con questo pizzico di umorismo e di protagonisti che ti entrano nel cuore, quindi lo definirei noir. Grafico no, è più veramente inquietante, nel senso che, come vi dicevo, ti mess with your head, quindi non capisci appunto cosa sta succedendo, se c'è qualcosa di sovrannaturale, quasi, qual è la verità, qual è la finzione, e se c'è qualcuno che sta agendo nell'ombra per ingannare il protagonista e di conseguenza anche il lettore, o non si capisce proprio il protagonista stesso, è sano di mente, sta mentendo, perché questa investigazione proprio l'assorbe completamente, perde quasi contatto con la realtà, diciamo, e per merita, sì, ovviamente merita. Notte Americana, è così pesante come dicono, temo una reading slump. Per me è stato coinvolgente dal primo momento, anche per il fatto che ci sono soprattutto all'inizio questi inserti, quindi magari più veloce da leggere in quel senso, è un bel mattoncino e in una sezione diventa un po' più denso, però secondo me è un libro giusto per una reading slump, per uscire, almeno tentare, se le prime pagine non ti catturano, ai ai ai, però secondo me è una possibilità valida da considerare. Pesante per le tematiche e emotivamente quello sì, perché, vi ripeto, è un thriller psicologico, quindi non è proprio rosa e fiori. Notte Americana, immagini e pagine particolari, sto decidendo se leggerlo cartaceo o ebook. Sì, come vi ho fatto vedere, ha molte immagini inserti, io consiglio di leggerlo cartaceo, cartaceo, però dipende se avete un bel lettore grande, se leggete dall'iPad o gli ultimi Kindle che sono molto più grandi, perché no? Io, anche perché ho un po' di difficoltà con la vista, eccetera, ho preferito cartaceo, anche se comunque l'edizione nuova, che è più economica, però non è molto grande. La prima era più, un formato migliore secondo me, però 25 euro per una flessibile anche no. Poi il secondo libro che ho letto è stato Tutto per i bambini, questo l'ho ascoltato, era un libro che volevo leggere da tanto tempo e finalmente ce l'ho fatta. Ho colto l'occasione perché mi sono laureata e la mia tesi di laurea trattava proprio l'argomento principale su cui si basa questo libro. Ma di cosa stiamo parlando? Allora, questo è un libro tradotto dal francese, ambientato, quindi letteratura contemporanea, ambientato nella nostra contemporaneità, che apparentemente ha una trama piuttosto standard, ovvero noi seguiamo dal punto di vista di una madre a cui hanno rapito la figlia e dell'investigatrice che ha il compito di portare avanti le indagini. Se non fosse che questa bambina, non è una bambina qualunque, ma è la star di un canale di YouTube dei più redditizi e famosi della Francia, ovviamente nell'universo di questo libro. Quindi questo non è un thriller, comunque sicuramente non è un giallo, le indagini non sono al centro del libro, ma il centro del libro è la tematica di proprio questi canali YouTube dove le star sono dei bambini. Ora, non so se conoscete questo fenomeno, è stato appunto, come vi dicevo, il tema centrale della mia tesi. Quindi come funzionano questi canali, come si comunica al pubblico, la questione di privacy, diciamo che è proprio un vaso di Pandora e io spero che se ne parli sempre di più, perché è un mondo poco tutelato, poco conosciuto. Questi bambini si ritrovano proprio a lavorare, perché quando si arriva ai livelli di, per esempio, la famiglia di cui si parla in questo libro, diventa un lavoro a tempo pieno. Questi bambini devono performare costantemente e tutta la loro vita è spiattellata su YouTube, su Instagram, ovunque, per chiunque abbia un telefono. Quindi non solo a altri bambini, ma a tutte le famiglie e ovviamente anche a malintenzionati. Ma non è solo quello il problema, ovviamente. Qua ne potrei parlare fino all'infinito, quindi ritorniamo al libro. Mi è piaciuto tanto questo libro, perché? Soprattutto per il punto di vista della madre e della bambina, che è stato reso veramente bene, secondo me. Perché è facile, sarebbe stato facile ricadere nello stereotipo, o comunque renderla proprio la cattiva, completa della situazione, stereotipata. Invece, secondo me, è un personaggio reso molto bene e rappresenta in maniera molto realistica quella che è, più delle volte, una madre che gestisce realtà del genere. Quindi magari una madre che vuole l'approvazione degli altri, dei follower in questo caso, e che si autoconvince che il canale è anche quello che vogliono i figli, cioè che a loro piace essere filmati, piace avere tutti questi regali, tutti questi fan. Si autoconvince, perché la vera persona a cui questo sistema giova è lei, è se stessa, non solo per i soldi, perché si fa una barca di soldi, è incredibile quanti soldi facciano questi canali, veramente. Però anche una cosa sentimentale, quindi cioè sentimentale, diciamo psicologica, diventi dipendente, dai like, la visualizzazione, cioè si crea ovviamente un circolo vizioso che non ha fine. E quindi secondo me l'è stata resa benissimo. Poi c'è stata anche una sezione verso l'ultimo terzo del libro che non mi aspettava assolutamente, che va ancora più a indagare questa tematica, quindi mi è piaciuto tantissimo. L'unica cosa è stata la prospettiva della investigatrice, che non mi ha preso particolarmente, perché era divisa, diciamo, in due. In parte serve al lettore magari che non conosce bene questo fenomeno, a capire come funziona. Quindi è questa investigatrice che non conosce questa tipologia di canali e quindi diciamo che attraverso il suo punto di vista si capisce come funzionano. Quindi è lei che scopre, va a vedere tutti i video, ne racconta le dinamiche, quindi posso capire la funzione. Io personalmente già li conosco a menadito, quindi queste dinamiche. E l'altra parte del suo punto di vista parlava della sua vita privata, dei suoi fidanzati, che non so, non ho capito bene perché avrei dovuto interessarmi a questa parte della sua vita. Sicuramente mostra una donna molto diversa dalla protagonista, dalla madre, però anche no. E quindi niente, ve lo consiglio tanto, sia che conosciate già questo fenomeno, sia che non lo conosciate, perché secondo me lo tratta molto bene ed è ora che ne parliamo molto di più, perché è qualcosa che purtroppo ne vedremo, diciamo, le conseguenze tra qualche anno. Ora, io devo fare pur pubblicità dei piccoli canali, quindi vi consiglio questa serie di video di Iris Babilonia, che per me è fantastica, immagino già la conosciate, ma nel caso ve la segnalo, no? Dovemmo aiutarli, questi piccoli canali. E ho fatto questa serie di video su Eight Passenger, che è proprio una tipologia, cioè proprio uno di questi canali, però è un caso eclatante che è veramente interessante, secondo me, da osservare. Però niente. Poi ho letto un libro che mi ha sorpreso tantissimo, ovvero The Undertaking of Heart and Mercy. Purtroppo questo esiste solo in inglese, però, beh, niente, è abbastanza popolare, quindi magari verrà tradotto, se verrà tradotto lo saprete subito da moi. Ve lo segnalerò subito. E l'inglese qui è piuttosto complesso. Era da tanto che non trovavo un inglese così complesso. Diciamo che, come al solito, è difficile più che altro entrarci. Poi, una volta che hai capito, sei entrata nell'ordine delle idee di questo mondo, eccetera, è stato più semplice. Però, complesso, devo dire complesso. Comunque, questo è il primo di una serie, il secondo verrà pubblicato a luglio, quindi non so quanti saranno in tutto, però ogni libro segue dei protagonisti diversi, quindi questo può essere tranquillamente letto come autoconclusivo, ed è un fantasy romance, però molto particolare, perché è un romance per adulti, cioè nel senso sembra un romance alla Emily Henry e Lee Hazelwood, così, però in un mondo fantasy, quindi non molto più adult che young adult. Non so se ho reso l'idea. Comunque, ci troviamo in questo mondo che confina con un altro mondo, ok? Il mondo in cui si muove con i protagonisti è, si somiglia molto a quello di La Casa sul Mare Celeste, quindi un mondo moderno, quindi con tecnologie moderne, però ogni tanto c'è qualche creatura strana, tipo il coniglio che ti, il coniglio parlante che ti consegna la posta, per esempio, quindi convive magia con la tecnologia. Il mondo, appunto, confinante con questo principale è un mondo all'apparenza super bello, a cui si può accedere attraverso alcuni portali, però da questi portali potrebbero uscire anche dei mostri. Ora, è piuttosto complesso, quindi non vado nel dettaglio, comunque escono ogni tanto dei mostriciattoli. Il nostro protagonista maschile è uno degli sceriffi incaricati di tenere sotto controllo questo problema, quindi nel caso uccidere i mostriciattoli. Una volta uccisi i mostriciattoli, però bisogna portarli alle onoranze funebre, alle pompe funebri. Sarà chiaro se lo leggete, ora non andrà sempre nei dettagli. Comunque, il problema è che alle pompe funebri lavora Mercy, questa ragazza che gestisce un po' l'azienda della famiglia, che si occupa appunto di questo. E Hart, invece, il maresciallo, il maresciallo, ciao, lo sceriffo appunto porta, più delle volte, i cadaveri proprio da Mercy. Il problema è che Hart e Mercy non si sopportano, non vanno proprio d'accordo, sono uno l'opposto dell'altra e per un motivo o per l'altro non si possono vedere. Un giorno Hart si sente particolarmente solo, quindi scrive una lettera indirizzata a nessuno in particolare, dove un po' apre il proprio cuore. Questa lettera viene consegnata, appunto, vi dicevo, ci sono dei conigli che consegnano la posta, ma anche dei gufi che consegnano, vabbè, è tutto magico. E quindi questa lettera viene consegnata a Mercy, anche se lui non l'ha indirizzata assolutamente a lei. E lei si ritrova questa lettera anonima a cui risponde. Visto che le poste sono magiche, qui non sono mica poste italiane, sanno sempre a chi deve andare la lettera. quindi inizia questa corrispondenza anonima in cui i due aprono il proprio cuore. Chissà cosa succede. Comunque, questo libro mi ha colpito tantissimo, perché comunque parte da magari dei troppi già visti, quindi abbiamo un po' il Sunshine, Grumpy Sunshine, quindi lui è molto più chiuso e Burberol, lei invece è molto più solare e vivace. Però il modo in cui tutto questo viene sviluppato, secondo me, è molto profondo. Proprio non me l'aspettavo una cosa del genere. Innanzitutto abbiamo un doppio punto di vista, quindi indaghiamo molto anche il personaggio maschile. E ultimamente avevo proprio questo problema che il personaggio maschile nei romance era super bidimensionale o comunque troppo perfetto e proprio fatto apposta per, diciamo, la fantasia della lettrice che vuole il tipozzo perfetto. Qui lui ha molti difetti e seguiamo proprio il suo percorso. Anzi, lui quasi mi è piaciuto di più di Mercy, però entrambi al di fuori del romance hanno molto, diciamo, quindi sono proprio tridimensionali che ognuno ha i propri problemi, le proprie difficoltà da superare. E la storia d'amore è veramente dolcissima, come in Divini Rivali, c'è questo scambio di lettere che a me piace sempre tantissimo perché è proprio un'attrazione emotiva, prima di tutto, quindi questo aprire il proprio cuore, parlare dei propri sentimenti, delle proprie paure, le proprie tevolezze, bellissimo. E sì, c'è qualche misunderstanding, questo è vero, però è difficile trovare un difetto a questo libro se devo essere sincera, perché quello che fa, lo fa benissimo. Anche il sistema magico, tutto quello che appunto riguarda la magia, ha un ruolo importante in questo libro, è molto originale, e si intreccia perfettamente anche con il conflitto romantico, con la loro crescita come persone, cioè è tutto fatto con rigore, si incastra alla fine tutto perfettamente e niente, io lo consiglio veramente tanto, spicy un pochetto pochetto, ma non dà proprio fastidio, anzi, secondo me è posizionato nel momento giusto, molto romantico. Niente, niente, quindi come al solito questo un altro libro bellissimo non tradotto, vabbè. Poi abbiamo Il mio idolo in fiamme, che mi è stato gentilmente inviato da Edizioni O, questo l'avevo già docchiato in inglese, e è un libro tradotto dal giapponese, che parla di la nostra protagonista, una ragazza di 16 anni, che ha un amore stratosferico per il suo idolo, che è il membro di un gruppo J-pop, quindi del pop giapponese. E la storia inizia quando però appunto questo suo idolo si vede al centro di una controversia. Però, devo dire, questo più che altro è uno studio del personaggio, infatti la lunghezza ottima appunto per delineare la protagonista principale. Io l'avevo iniziato più che altro incuriosita dallo studio delle dinamiche parasociali, dopo vi spiego, però sono stata colpita soprattutto da questo studio del personaggio, di un protagonista veramente, veramente incredibile. Allora, cosa intendo per relazioni parasociali? Se non sapete, le relazioni parasociali sono normalissime e sono quelle che si formano per qualcuno che non ci conosce. Nel senso, a tutti è capitato di affezionarci magari a un attore, un attrice, soprattutto adesso, influencer, youtuber, tiktoker, eccetera. È normale, soprattutto se si seguono per tanto tempo, ci sono molte persone che mi dicono guarda, mi sembra quasi di avere un'amica con cui parlo, è normalissimo chi non l'ha mai avuto. Poi ovviamente si comprende il limite, cioè che l'altra persona non ti conosce e sì, questo, se no, avrei già, Favij avrebbe già avuto un ordine restrittivo contro di me quando avevo 13 anni. Quindi, però già a 13 anni io sapevo che non potevo molestare Favij perché è una persona che non ha idea di chi io sia, quindi capite quello che intendo, ok? Quindi, ripeto, sono relazioni normalissime e poi è ovvio che ci sono certi limiti da non superare. In questo caso, però, l'idolo della protagonista è proprio tutta la sua vita. Ovviamente anche questo non è sano. Infatti, vediamo come lei sia un adolescente che ha dei gravi problemi, soprattutto riguardanti la depressione, quindi la sua vita ha senso solamente nei confronti dell'idolo. Lei sa tutto del suo idolo, raccoglie, lo supporta in mille modi, lo supporta sempre anche appunto dopo questa controversia, lei si fa capo quasi della crociata per difenderlo a spada tratta e però questo non è amore, non solo perché non conosci l'altra persona ma anche perché lei appunto usa questo amore per riempire un vuoto che si tiene dentro. questo vuoto che ha creato sia perché appunto soffre di depressione ma anche perché è circondata da una famiglia che non la capisce, non la supporta, non va bene a scuola, non ha amici, quindi è veramente un ritratto quasi che spezza il cuore, soprattutto se si parla di adolescenza, un periodo già molto complesso. Più appunto si vede questa protagonista veramente che mi ha fatto una tenerezza assurda in cui in parte mi ci sono rivista perché soprattutto a persone come non so, me, forse anche alcuni di voi che mi stanno guardando, ci leghiamo forse troppo a forse mondi di fantasia, cose di fantasia o comunque non al mondo reale e diciamo dico troppo quando questo serve come meccanismo di difesa. A me è successo che alcuni periodi in cui stavo molto male quasi ricacciavo la realtà e pensavo solamente alla serie TVX, il libro Y, eccetera, eccetera, cioè io per esempio ho sempre scritto diari raccontando della mia vita, dei miei amici, eccetera, nel momento in cui stavo male scrivevo solamente a tra un po' esce il film Y, tra un po' ho letto il libro X, cioè completamente rifiutavo la realtà, ovviamente questo non è cioè un segnale di salute mentale un po' che è andata a quel paese, beh, comunque ve lo consiglio tanto secondo me amate i ritratti dei personaggi, però sì, vi dico è comunque un ritratto speranzoso perché al finale lascia speranza però spezza abbastanza il cuore, sì. Poi abbiamo il problema dei tre corpi di cui forse avete sentito parlare perché è uscita proprio la serie di Netflix, vi dico già per chi mi ha chiesto se l'ho vista, io ovviamente inizio i libri per guardare le serie tv poi non le vedo mai quindi non l'ho vista soprattutto perché non solo perché sono pessima con le serie tv ma anche perché ho scoperto dopo aver letto questo libro che la serie prende molti elementi anche dal secondo e terzo libro della trilogia quindi io non volendomi fare degli spoiler ho evitato, voglio concentrarmi prima sui libri. Però cosa vi posso dire del problema dei tre corpi? Allora questa è una serie di fantascienza e questo libro diciamo secondo me è più una introduzione a quella che sarà la vera ciccia della trilogia però mi è piaciuta comunque tantissimo ma infatti la ciccia della trilogia si capisce nell'ultima nell'ultima parte quello che sta succedendo ok? quindi apparentemente non ve lo sto vendendo bene questo libro ma nonostante sia una grandissima introduzione io l'ho adorato non riuscivo proprio a staccarmi e non capisco perché sulla carta è un continuo spiegone cioè nel senso è molto ricco di fisica, astrofisica scienza, biologie però non lo so mi ha catturato mi ha veramente catturato quindi sono in questo limbo a chi mi chiede se è scorrevole non scorrevole pesante non pesante io non ve lo so dire non ve lo so dire perché per me è risultato estremamente interessante ma non contate su colpi di scena svolte di trama personaggi è un po' come leggere un libro di testo quindi sì fate i vostri i vostri conti io veramente non mi riuscivo a staccare ma non so perché comunque quello che vi posso dire è che è ambientato tra gli anni 60 in Cina e la Cina e la Cina moderna negli anni 60 in Cina c'è stata la rivoluzione culturale quindi si parla un po' della storia cinese e di un progetto segreto che alcuni scienziati astrofisici portano avanti appunto da questo momento della storia ovviamente nel mondo del libro e mano a mano si capisce cosa è successo qual è questo progetto segreto però vi ripeto non leggetelo per le mille mila svolte di trama per i personaggi anche i personaggi sono molto non dico piatti però svolgono il loro ruolo cioè portare avanti la storia spiegare cosa sta succedendo spiegare teorie fisiche astrofisiche quindi ecco in particolare si basa su questo appunto problema dei tre corpi che è ancora irrisolto nell'astrofisica moderna cioè non si capisce come si potrebbero comportare tre corpi che sono in interazione tra di loro penso di aver capito così ecco nel senso che se abbiamo due corpi ovviamente celesti parliamo sappiamo come si comportano rispetto alle forze gravitazionali se si aggiunge un terzo corpo è praticamente impossibile prevedere come si comporteranno si basa un po' su questo quindi sempre vi ripeto fate un po' voi due conti però veramente non vedo l'ora di continuare perché il finale è stato pazzesco i primi tre corpi va bene per iniziare con la fantascienza ti ripeto dipende da cosa vuoi dalla fantascienza se vuoi avventura no se vuoi colpi di scena no se vuoi scienza si se vuoi proprio della scienza portata diciamo avanti da molta da molta fantasia allora si se vuoi personaggi incredibili cioè non lo so non lo so veramente voi provate a leggere le prime pagine se vi cattura yeah se no è tutto così ve lo dico anzi forse l'inizio è più movimentato della metà ecco si riesce a capire il problema di tre corpi con una scarsa base di fisica secondo me sì deve avere un minimo di interesse per la materia un minimo però è proprio spiegato benissimo secondo me dipende tutto dalla percezione è difficile essere oggettivo è impossibile però per me è stato veramente chiaro e non solo chiaro anche interessante e coinvolgente è un libro complesso sono cotta e vorrei letture scorrevole e semplici ecco questo no no te lo dico con con franchezza se sei cotta no anche può essere coinvolgente quanto ti pare ma stessa cosa è una lettura difficile da fare in un periodo incasinato magari no magari no ecco poi abbiamo Paradigm Strength questo è il secondo di una serie di libri fantasy romance della mia cara Kingfisher che è una delle mie autrici preferite ma forse lo sapete già visto che in ogni wrap up vi presento uno dei suoi libri quindi va va questo appunto è il secondo di una serie purtroppo non sono stati tradotti in italiano ma un libro della Kingfisher verrà finalmente tradotto a ottobre Nettol and Bone che è uno dei miei scusate il mio preferito il primo colletto il mio preferito della Kingfisher uscirà l'otto ottobre quindi attenti ma appunto questa invece è una serie molto romantica e ogni libro segue due protagonisti diversi però io vi consiglio vivamente di seguire l'ordine di lettura quindi questo come secondo perché infatti qui si va a chiudere quello che era il mistero che era stato introdotto nel primo quindi nonostante i personaggi principali siano altri però è importante perseguire diciamo il filo conduttore del mistero e dell'avventura che abbiamo in questo libro ogni libro segue un paladino diverso paladini che fanno parte di questo gruppo che all'inizio dieci anni prima dell'inizio di questa storia hanno perso il proprio dio perché appunto in questo mondo fantasy questi paladini erano seguiti da un vero e proprio dio da una forza mistica sovrannaturale che gli dava dei poteri e gli permetteva anche soprattutto di controllare questi poteri queste furie ma da un giorno all'altro questo dio muore scompare e non si capisce cosa sia successo appunto dieci anni dopo cominciano le vicende di questi paladini che uno a uno si innamoreranno mi dispiace no non mi dispiace vabbè boh andiamo avanti questo in particolare segue appunto un altro dei nostri paladini ma rispetto al primo mi è piaciuto molto di più è iniziato che era un po' incerta però ha avuto un bellissimo svolgimento soprattutto perché è molto più movimentato del primo questo è proprio un road trip ci muoviamo molto all'interno di questo mondo facciamo proprio un viaggio e seguiamo appunto uno di questi paladini che deve risolvere appunto come vi dicevo il mistero iniziato nel primo libro quindi c'è una forza misteriosa un assassino che colpisce le persone e diciamo è un assassino molto molto violento sono scene molto cruente e che incontra appunto nel suo viaggio questa suora le cui compagne sono state tutte rapite e si pensa che le due cose potrebbero essere intrecciate ecco un mistero e l'altro chi ha rapito queste suore e chi sta uccidendo queste persone sia forse la stessa persona o comunque ci sia qualcosa in comune e quindi decidono di continuare il viaggio insieme chissà chissà si innamorano si picchiano chi lo sa mi è piaciuto molto di più perché è molto più movimentato e lo sviluppo della coppia principale è molto diverso da uno sviluppo più tradizionale e come al solito poi entrambi i personaggi sono molto sfaccettati come al solito per la Kim Fisher non sono assolutamente stereotipi e c'è una grande varietà anche di aspetto fisico sono più anziani sono più adulti dei soliti protagonisti di Romantasy quindi quello mi piace molto di più c'è molta discussione su consenso c'è molta maturità in questi libri tutte cose che si trovano in tutti i Romantasy della Kim Fisher e niente quindi ve lo consiglio veramente questa serie se cercate dei fantasy romance diversi dal solito comunque se avete i miei stessi gusti infatti di storie romantiche ecco poi ho letto Giuramento e anche Edge Dancer che è raccolta in qui Arcanum Unbounded però beh che è una storia breve che è da leggere prima di Giuramento ovvero il terzo libro delle cronache della Folgoluce cosa posso dire ho fatto tutto un reading vlog dedicato a questo libro c'è se tutta una parte non spoiler che alla fine una discussione con gli spoiler sta diventando una delle mie serie preferite in assoluto è strepitosa sicuramente sì non è per tutti però non vi fate intimidire dalla molle perché la scrittura non è densa i personaggi sono fantastici secondo me alla fine c'è qualcosa per ognuno perché c'è molto war building pazzesco sistema magico personaggi stupendi fuori di testa e la scrittura è molto molto semplice probabilmente il difetto tra virgolette quello che vi posso dire è che l'inizio di questi libri è sempre molto lento molte volte uno potrebbe chiedersi ma perché sto leggendo questo punto di vista perché sto leggendo questo capitolo cosa mi servirà tutto avrà un perché ed è uno di quei libri proprio che rosolano lentamente perché dopo ci sarà uno scoppio incredibile tutti questi libri hanno un climax pazzesco per me vale la pena che pena non è perché io amo stare insieme a questi personaggi e esplorare questo mondo comunque vale la pena affrontare questi momenti più lenti perché poi la fine è pazzesca veramente pazzesca niente niente andate a vedere quel video se vi interessa saperne di più poi appunto dopo questo mega mattonazzo ho letto un romance perché mi serviva qualcosa di più tranquillo ovvero Out of a Lame questo è un libro che esiste sempre solo in inglese però è molto semplice è un romance contemporaneo e recentemente è stato anche ripubblicato da una casa editrice in America perché se non sbaglio era stato autopubblicato all'inizio quindi è probabile che poi prima o poi verrà tradotto in italiano i romance molto facili che vengano poi tradotti soprattutto quelli molto popolari questo è diventato abbastanza virale comunque questo appunto è un romance che ha fatto quello che doveva fare non mi ha sconvolto la vita soprattutto non mi è piaciuta molto la fine però mi ha rilassato un attimo mi ha dato dei momenti teneri dolci e va bene però so che potrebbe non piacere a tutti soprattutto per il motore della storia il motore della storia è una gravidanza indesiderata quindi se questa cosa non vi interessa non vi piace saltate pure avanti infatti noi seguiamo la nostra protagonista che va a questa festa di Halloween della sua migliore amica lì incontra un ragazzo che le sta abbastanza simpatico una cosa tira l'altra e lei si ritrova incinta cioè diciamo che non aveva intenzione di rivederlo mai più soprattutto perché lei è stata cioè diciamo che ha una concezione molto negativa dell'amore o comunque dell'impegnarsi nell'amore diciamo per l'esempio che le aveva dato sua madre ma anche per delle sue esperienze pregresse che l'hanno molto ferita quindi non aveva intenzione di rivederlo capita che rimane incinta ovviamente c'è anche discussione sull'aborto cioè non è pro-life però appunto discutendone anche con il ragazzo il ragazzo dice guarda devi fare quello che ti senti io ti supporto in ogni caso e lei decide appunto di tenere il bambino e quindi questo ovviamente è il pretesto per farli avvicinare mentirei se dicesti che la gravidanza non è una parte importante della storia perché ovviamente non è solo il motore ma c'è anche molta discussione su la gravidanza i problemi della gravidanza il rapporto anche con il figlio non ancora nato però a me questo non ha disturbato cioè in generale non mi disturba mi disturba se magari compare la gravidanza desiderata alla fine per far riavvicinare i cosini dopo un conflitto ecco quello non mi piace però come motore della storia così non mi dispiace anzi mi hanno commossa anche per esempio la scena della prima della prima ecografia veramente veramente dolce in più questo libro tratta anche della tematica della disabilità infatti entrambi i nostri protagonisti la protagonista è nata con questa disabilità non le si è formata totalmente la mano prima di nascere mentre il nostro protagonista si è dovuto amputare una gamba quindi anche qui trigger warning cancro ecco si parla anche di quello non in maniera eccessiva non è un libro tragico assolutamente ma appunto per avere un libro che parla comunque di speranza di positività bisogna secondo me è ovvio che ci deve essere diciamo un'esperienza pregressa di qualcosa di difficile che i nostri protagonisti hanno attraversato che stanno attraversando e che riescono in qualche modo a parlarne a superarli insieme quindi si hanno avuto un passato difficile però è una bella storia positiva di speranza quindi chi mi chiede autovalimbe scorrevole assolutamente sì perché è un romance normale tratta temi pisantucci sì però lo fa sempre con molta dolcezza tranquillità e sì ha proprio la tematica della disabilità l'autrice stessa ha la stessa disabilità della protagonista e quindi ne parla con molta onestà franchezza anche leggerezza diciamo perché per lei proprio non è per se stessa un peso ha imparato ovviamente a conviverci cioè è parte di lei è lei così però ovviamente una cosa più che diventa complessa quando si deve rapportare con l'altro in un certo senso vabbè comunque ripeto trattato con molta leggerezza positività non c'è neanche un conflitto finale non c'è neanche una separazione finale come di solito avviene nei romance in cui appunto c'è una separazione poi un riconciliamento la riconciliazione anche se non mi sarebbe dispiaciuta perché diciamo che la struttura di una storia è sempre così c'è sempre una crescita magari della tensione fino a un climax magari il momento di sfatta in cui tutto sembra perduto e poi la vittoria un po' in tutto anche nei fantasy in qualunque genere quindi diciamo che un libro in cui tutto va bene finché tutto va bene è un po' una struttura strana infatti la fine è stata un po' ok siete insieme adesso va bene bella però poteva andare peggio ecco e poi un'altra cosa che mi ha messo un attimo in difficoltà sono state le scene più spinte perché diciamo che c'è un grammetto di breeding kink se sapete cos'è bene se no non lo volete sapere e a me questa cosa fa abbastanza schifo e cioè nel senso non voglio fare kink shaming la mia esperienza di lettura è stata negativa in quel momento per questa cosa perché a me questa cosa non piace non piace per niente non mettete non prendete in causa i bambini di rimanere incinta in questo circolo cioè no 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 infine ho ascoltato Solaris questo è un altro libro di fantascienza un po' più vecchiotto se non sbaglio anni 60 70 correggetemi se sbaglio e anche questo è un libro che mi ha sorpreso tantissimo qui si parla di un futuro non ben specificato in cui l'umanità ha scoperto un altro pianeta raggiungibile ovvero Solaris Solaris ha la particolarità di essere ricoperto da questo mare che si comporta in un modo che noi non riusciamo a comprendere e la storia inizia quando Kelvin il protagonista arriva alla base di Solaris e comincia a notare che c'è qualcosa di strano nella base sia tra i compagni quindi gli altri astronauti che sono arrivati lì gli altri scienziati che sono lì ma anche lui stesso comincia ad avere strane visioni non capisce cosa sta succedendo diciamo che parte del libro è capire cosa sta succedendo cosa succede qua a Solaris questo è stato un libro che è un mix di tante cose nel senso quello che mi aspettavo soprattutto era molta scienza e filosofia e questo c'è sicuramente si parla del funzionamento in maniera molto fantastica ovviamente di questo pianeta inventato delle conseguenze che questa scoperta hanno avuto sull'umanità conseguenze anche filosofiche chi lo ha studiato chi quasi l'ha reso un dio questo pianeta chi lo venera quindi anche implicazioni religiose si parla anche di diciamo un po' i limiti dell'essere umano perché sono anni ormai che questo pianeta è stato scoperto ancora con la scienza umana non si è arrivato a comprendere quindi i limiti dell'essere umano il tentare di capire qualcosa che funziona totalmente in maniera opposta ai nostri paradigmi quindi si parla anche di questo ma quello che mi ha colpito di più è anche la profondità con cui si va all'interno del protagonista soprattutto ma comunque della psicologia dell'essere umano perché infatti uno dei ponti cardini della storia è come funziona la nostra mente e come funziona anche il rimorso il rimpianto le colpe come interagiamo con il nostro passato come reagiamo anche alla speranza all'amore è stranamente anche un libro romantico e tragico in parte quindi veramente non me l'aspettavo e anche le parti più lente e ci sono molti spiegoni ecco diciamo molti spiegoni nel senso che ci sono parti in cui magari il protagonista legge o spiega la storia della scoperta di Solaris come le persone hanno reagito e non sono sezioni spalmate all'interno del libro ci sono proprio magari dei capitoli solo di quello però secondo me come nel problema dei tre corpi ho trovato queste parti anche molto interessanti per quanto riguarda le domande mi avete chiesto Solaris è fattibile per chi si approccia per la prima volta al fantascientifico secondo me sì perché non è neanche troppo lungo come per chi me l'aveva chiesto per il problema dei tre corpi dipende se volete un'azione battaglie spaziali no però se volete qualcosa di più introspettivo e anche filosofico scientifico sì lo consiglio magari a magari non i giovani cioè non i giovani giovani magari potreste rimanere un attimo scottati non lo so soprattutto se volete ripeto qualcosa di più movimentato coinvolgente non lo so non lo so per gli adulti sicuramente anche perché non è troppo lungo però sì oppure magari siete dei piccoli geni incredibili io leggevo Shadowhunters a 13 anni quindi va niente abbiamo finito parlato troppo troppo quindi chiudiamola qui comunque spero che questo video vi sia piaciuto ditemi voi cosa avete letto se avete letto alcuni di questi libri cosa ne avete pensato e se vi piace a me faccio iscrivetevi se vi piace le commentate che dico ne dico molti più su Instagram come al solito sono in descrizione bye bye